se c'è qualcuno felice di questo lockdown è il qui presente aldo saluta tutti i lettori lui è felice perché non gli pervero di avere non la sua padrona lui è il mio padrone in casa tutto il giorno che non esce non si muove non gli crea le ansie di vedermi tornare a casa chissà mai maldo è un'eccezione alla regola degli animali è un'eccezione per tanti motivi primo perché lui parla non ho ancora ben capito in che lingua parli ma lui parla secondo perché a nove anni è ancora un ragazzino un adolescente ha una gioia di vivere sfrenata a volte distruttiva per lo meno per il mobilio di casa maldo è un'eccezione alla regola della natura perché in fondo questa natura in questo periodo è contenta sì ma della nostra assenza più che della nostra presenza tutti abbiamo l'impressione di una primavera particolarmente rigogliosa particolarmente esuberante chissà se è così per davvero ma certamente è una primavera che sta facendo disinvoltamente a meno della presenza umana così come quegli animali che vediamo popolare le strade della città avventurarsi in luoghi che non avrebbero mai immaginato né noi avremmo mai immaginato di vedere abitati o passati da animali che sono coccodrilli le volpi che camminano per le strade di new york i canguri che saltellano disinvoltamente sull'asfalto dell'australia ebbene questi animali ci dicono qualcosa ma ci dicono qualcosa che forse non ci piace ammettere perché sia gli animalisti e gli ambientalisti più convinti sia tutti coloro che sono indifferenti al tema della natura e dal nostro rapporto con la natura io credo che trattino tutti gli uni e gli altri la natura come un oggetto come qualcosa che è ciò che noi facciamo ciò che non facciamo nei confronti dell'ambiente che ci circonda ora quello di cui ci stiamo rendendo tutti conto in questi tempi di più o meno lockdown a parte la gioia di aldo di avermi sempre in casa e chissà cosa succederà quando riprenderemo la vita normale lui dovrà fare i conti con la solitudine con l'attesa con il pensiero che ci sono e non ci sono ebbene tutto il resto della natura io credo invece ci stiamo rendendo conto in questi tempi che è un soggetto non un oggetto che fa tranquillamente a meno di noi ma non con l'entusiasmo né con la nostalgia come fa aldo quando io non sono in casa lo fa con l'indifferenza e questo ci dimostra che la natura l'ambiente che ci circonda non è l'oggetto o delle nostre attenzioni delle nostre preoccupazioni della nostra indifferenza ma è un soggetto è un soggetto che vive indipendentemente da noi che esiste indipendentemente da noi e che fa il suo corso che noi si sia in casa o meno questa potrebbe essere una constatazione angosciante ma in fondo è anche e dobbiamo trasformarla in qualcosa di rassicurante nel pensare che la natura che ci circonda è un altro da noi e che si può esplorare e guardare con un affetto diverso quando torneremo a ripopolare le nostre strade a far uscire il gas dai tubi di scappamento a pensare all'ambiente a come conservarlo per questo voglio consigliarvi questa volta dei libri come quello di Judith Chalansky sulle isole perdute e lontane che ci aiuta a vedere le misure di questo mondo a considerarlo immenso grande e come dire esistente fuori di noi ed è proprio per questo che dobbiamo imparare ad abitarlo con un vero affetto che è fatto di altruismo e di consapevolezza quindi atlante delle isole perdute e tante altre letture che vi racconterò di Judith Chalansky saluti anche da Aldo ciao 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 ciao